Salve a tutti, avvicino il microfono e oggi desidero rispondere e condividere del materiale e dei supporti relativamente a come gestire le metodologie e le strutture didattiche relative alle materie scientifiche. Bene, ovviamente chi concorre per materie letterarie può trovare comunque utile queste considerazioni. Allora, è giusto sottolineare che l'insegnamento delle scienze è essenzialmente... Allora, l'insegnamento a grandi linee è essenzialmente legato a una visione compatta e progressiva di saperi lineari e cumulativi. E adesso vedremo che cosa significa tutto questo, sapere lineare e cumulativo. Questo significa che è stata messa da parte Una pratica molto importante che invece deve essere fondata sulla moderna conoscenza scientifica E quindi nelle materie scientifiche è fondamentale Trasferire ai nostri studenti un metodo attraverso il quale l'indagine è fondata sull'osservazione dei fatti e sull'interpretazione è fondamentale trasmettere le metodologie basate su trasmissione di contenuti, di fatti, di esperienze e questo richiede un livello ovviamente superiore e questo richiede un livello ovviamente superiore interpretazione degli stessi contenuti Quindi, ripeto, l'osservazione dei fatti è lo spirito di ricerca perché l'interpretazione si basa sulla ricerca e trovare i contenuti si basa su ricerca e continuamente contenuti, interpretazione, ricerca contenuti, interpretazione, ricerca Questo metodo circolare è il presupposto alla base di un insegnamento efficace delle scienze Mettiamo il blu insegnamento efficace che poi è quello che viene richiesto a noi docenti Ovviamente c'è di più c'è qualcosa che riguarda un pochettino tutte le classi di concorso quale, ad esempio il coinvolgimento diretto ed indiretto degli studenti degli studenti i quali vanno incoraggiati i quali si devono porre domande interrogativi sui fenomeni sui fenomeni e su quello che osservano devono progettare esperimenti ricerca esplorazione seguendo le ipotesi arrivando a delle tesi per costruire un modello di apprendimento interpretativo e per arrivare a questo diventa focale il laboratorio perché? perché è qui che avviene la sperimentazione ovviamente per anni i nostri colleghi docenti più anziani hanno seguito il metodo tradizionale ossia la lezione frontale che può essere declinata almeno in 3-4 tipologie perché badate bene le metodologie innovative sono parte integrante del percorso didattico però per anni noi siamo giunti al nostro sapere alla nostra professione anche attraverso la anziana ma non per questo non utile lezione frontale che è il metodo tradizionale alla quale sicuramente vanno affiancate le metodologie di laboratorio la quale in realtà vede all'interno di se stessa delle evoluzioni nelle quali all'inizio c'era l'esposizione pura tipica ancora dell'università nella quale il professore spiega gli studenti ascoltano e basta quindi c'è un apprendimento di tipo ricettivo puro c'è solo l'ascolto da parte dello studente si è pervenuti poi a un metodo espositivo interrogativo molto comune alle scuole nel quale durante l'esposizione o la fine di essa il professore fa delle domande per ricevere dei feedback per verificare e monitorare se il messaggio è stato più o meno compreso poi si arriva anche a metodi espositivi e partecipativi dove lo studente non è visto più come solo un elemento passivo ma durante la lezione può porre domande intervenire secondo modalità che vengono negoziate con il docente la partecipazione poi si completa con esercizi applicativi o attività comuni quali sono i pro sicuramente in pochissimo tempo si possono presentare molti contenuti quindi la quantità contenutistica la quantità dei contenuti pone le basi per lo studio individuale lo studente alla fine della lezione frontale dopo che ha preso appunti e gli elaborati studia individualmente o addirittura anche in gruppo e è utile affinché ci sia efficacia adottare strategie quali metodi affascinanti e coinvolgimento espositivo cercare di coinvolgere coinvolgimento il più possibile personalizzare l'esposizione in funzione del gruppo classe in funzione delle caratteristiche degli allievi personalizzazione strategie partecipative che inducono lo studente ad essere a partecipare attivamente attivamente quindi strategie partecipative ovviamente l'utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione sussidi e tecnologie didattiche quali sono i limiti non dico i contro però il contro non mi piace qual è il limite ovviamente è molto difficile stare attenti scusate il gioco di parole all'attenzione degli studenti perché il ritmo e la durata mettono a dura prova la capacità di attenzione degli studenti l'attenzione è un limite quindi di conseguenza non tiene conto se io faccio devo fare una lezione relativamente a un determinato programma non sto tenendo conto dell'interesse della curiosità della motivazione dello studente è limitata anche nel processo dell'apprendimento la lezione può essere tecnicamente perfetta ma non va a stimolare il processo dell'apprendimento quindi non considera i successivi step di assimilazione accomodimento metabolizzazione dei contenuti consolidamento ridotta interazione studente docente si tende a lavorare soprattutto sulle capacità mnemoniche si va a elaborare in maniera meccanica non strategica non con problem solving non con elaborazione e rielaborazione dei contenuti per pervenire poi alle soluzioni ma si tende hanno successo soprattutto quelli che imparano a memoria e non c'è possibilità di avere di acquisire di favorire un processo critico mancano mettiamo così il dialogo perché i processi critici vengono evidenziati dal dialogo dal confronto bene io adesso sto per la prima volta utilizzando anche questo software e non mi sono posto il dubbio di come inserire una nuova scheda o le forme o inserisci rimuovi spazio aggiuntivo se io voglio dello spazio aggiuntivo ah ok voglio dello spazio posso suddividere un'area e crearmi dello spazio ok e sposto tutto sotto cancello e mi e mi creato lo spazio qui sotto benissimo ritornando al metodo operativo che si dovrebbe privilegiare relativamente alle materie scientifiche mi sono perso qualcosa qui sicuramente il laboratorio costituisce una delle essenze fondamentali l'esperienza di laboratorio anche seguendo le indicazioni nazionali per il curriculum si giunge alla consapevolezza dell'importanza della metodologia didattica fondata sul laboratorio quindi metodologia didattica laboratoriale che stimola l'originalità valorizza il pensiero specifico dello suo dente stimola il pensiero spontaneo deve essere fondata non su dogmi su assiomi ossia questo è così punto e basta ci dovete credere per fede ma deve favorire la fiducia negli allievi del metodo sperimentale della possibilità di toccare con mano ciò che si impara ed ecco che bisogna predisporre ambienti di formazione che avvicinino lo studente a comportarsi come un piccolo scienziato quindi un laboratorio didattico è una simulazione di laboratorio scientifico simula il laboratorio scientifico e a questo punto devono essere seguite tutte le fasi dell'esperimento anche magari considerando le teorie galileiane nell'eventualità in cui nella scuola non ci sono non sono predisposte la scuola non è non disponga nell'eventualità in cui la scuola non disponga di autole utilizzabili per il laboratorio si può sicuramente adottare e progettare un laboratorio in classe quindi si può usare adesso parliamo dell'ambiente sicuramente si deve privilegiare se disponibile un laboratorio ad hoc ma se non si ha la possibilità ovviamente si deve costruire un laboratorio in classe e un'altra esigenza specifica delle materie scientifiche è anche la differenza di linguaggio perché tutte le materie scientifiche utilizzano un linguaggio specifico e l'istruzione scolastica deve considerare questa caratteristica quindi bisogna sviluppare sviluppo del linguaggio per favorire la comunicazione efficace tramite racconti orali scritti immagini grafici disegni mappe tabelle grafici ecc 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 sempre tenendo conto che va potenziata l'impostazione metodologica quindi il modo di ragionare le strutture del pensiero le informazioni trasversali e bisogna evitare la frammentarietà nozionistica avendo una un costante riferimento con la realtà al termine del quale seguendo anche le indicazioni nazionali per il curricolo bisogna raggiungere i traguardi indicati per lo sviluppo delle competenze al termine di ogni percorso bisogna sviluppare competenze al termine del percorso didattico questa domanda mi è stata fatta tante volte perché è stata posta a tanti di voi che stanno partecipando al concorso straordinario e anche bisogna prestare importanza agli obiettivi di apprendimento con maggiore rilievo delle competenze al termine del percorso didattico per quanto riguarda la scuola primaria e maggior rilievo agli obiettivi di apprendimento per quanto riguarda la scuola secondaria non che nell'una manchi un aspetto e nell'altra manchi l'altro non sto dicendo questo sto guidandovi sto dandovi dei suggerimenti per come impostare le risposte quesiti bene sono contento di aver finito faccio una piccola considerazione bella potenzialmente meravigliosa per la quale molti di voi ancora non sono iscritti quindi siete circa non so forse 8000 a esservi iscritti al canale e a commentare e a partecipare però molti di voi si sono dimenticati molti di voi addirittura all'80% quindi siete più di 30.000 in realtà a visionare sistematicamente questo canale e quello che forse posso chiedervi in cambio ovviamente se è solo lo credite questo è non qualcosa che volevo chiedervi di iscrivervi e condividere questo materiale io vi auguro una buona continuazione di studio e continuate a scrivere e a chiedere ciò che reputate necessario e opportuno io continuerò a fare ricerca e a condividere sicuramente tutto quello che sono state le mie esperienze e tutti quelli che poi sono i miei contenuti che ovviamente sono rivolti al desiderio di avere tanti colleghi finalmente di ruolo che possono stare in una situazione lavorativa forse più confortevole ve lo meditate un caro saluto da Francesco